Sicilissimo, sono le undici, io conto per mezzanotte di mandarli tutti a casa, per cui non dovete resistere poco. Aspetta che... Secondo me questo non è il pezzo esatto per iniziare la scaletta, poi dopo diteglielo a lui, che è lui che fa quelle... che si occupa della logistica. Quelle volte che vero mio padre, esplodicava con la voglia di ammazzare, non capisco per te, ma io c'ho voglia di uccidere, io già non voglia di essere mio, più più a tutti. Sì, sono le due delle persone, io conto per mezzanotte di andare, io conto per mezzanotte di andare, io conto per mezzanotte di andare, io con la voglia di essere mio, più a tutti. Sì, sono le due delle persone, io conto per mezzanotte di andare, io conto per mezzanotte di andare, io con la voglia di essere mio, più a tutti. Sì, sono le due delle persone, io conto per mezzanotte di andare, 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 io conto Grazie a tutti. Grazie a tutti.